Perfetto, un vero schifo. E' uguale a mc al quadrato. Vistevi la formula? Certo, niente di più facile. Essa vuol dire che l'energia è uguale a una marmellata per una prostata quadrata. Da dove vengono queste voci? Mi pare dalla telecamera. Ma questi sembrano... sembrano FANTAMI! Esatto! Fantasmi, ci siete? Ma sì. Fantasmini, dateci un segno. ... FIORMES Otro Grazie a tutti.